Nel cuore di Verona con Valentina, Francesca e Rachele, tre colonne della Chievo Fortituto Women che domenica debutta finalmente in campionato contro il Perugia. Valentina, comincio da te, dall'alto della tua esperienza. Insomma, come vi approcciate a questa prima giornata? È stata una stagione di mercato molto movimentata in senso positivo del termine. Ci sono anche delle aspettative alte, come è giusto che sia in questi casi? Beh, sicuramente è stata un'estate movimentata. Finalmente domenica inizia il campionato, cercheremo da subito di dimostrare il nostro valore in campo. Come ti sei inserita? Immagino in maniera ottima perché insomma a sentire, a leggere le interviste di tutte le tue compagne l'ambiente è di quelli positivi, c'è tanto ottimismo e tanta voglia di far bene. Sì, sicuramente il gruppo è un fattore importante di questa squadra, di questa società. L'inserimento è stato semplice perché comunque è un gruppo bello, è un gruppo unito, è un gruppo dove si respira tanta tranquillità, tanta voglia di imparare e di fare, quindi lavorare così è bellissimo. Francesca, passo a te perché sei una delle senatrici, passami il termine dai, di questa squadra. Quindi dall'alto dei tuoi tanti anni di militanza a questa squadra ti chiedo come bisogna cominciare al meglio questo campionato? Come si fa a partire subito forte insomma? Diciamo che per noi è stata un'unione importante quella col Chievo, noi eravamo una piccola società e abbiamo la possibilità di fare bene in un campionato importante e che alza sempre di più la sticella quindi sicuramente domenica affrontiamo una delle squadre che è stata promossa in Serie B quindi per fare bene non dobbiamo prenderla sotto gamba e cercare di puntare più in alto possibile. E per fare bene bisogna fondamentalmente fare due cose, non prendere gol da una parte ma soprattutto poi fare gol e quindi Rachele chiedo a te che insomma sei una giocatrice offensiva, quali sono, adesso non ce le svelare proprio tutte e tutte ma le strategie che Mr Zucker ha cercato di imporre in queste prime settimane di lavoro? Abbiamo cercato fin da subito di giocare palla a terra tra di noi coinvolgendo praticamente tutti i reparti dalla difesa, centrocampo e attacco e poi davanti è fantasia quindi ci metteremo del nostro per cercare di segnare più possibile quindi di rassicurarci i primi gol, i primi punti da subito.